Almeno Hagrid non è stato licenziato. Sì, ma dicono che il padre di Draco sia furioso. La storia non finisce qui. È stato avvistato, è stato avvistato! Chi? Sirius Black! Siamo avvistati Sirius Black! Avete sentito? A Daftown! Non è lontano da qui! Non crederete che venga Hogwarts? Vero? Con i dissenatori a ogni ingresso. I dissenatori? Già una volta gli è sfuggito di mano, no? Chi può dire che non lo rifarà? È vero. Potrebbe essere dovunque. È come tentare di afferrare il fumo. Come tentare di afferrare il fumo a mani nude.